Ciao, sono Lorenzo Cicetti, sono un networker dal 2006, full time dal 2012 e in questo brevissimo video ti spiego come posso aiutarti a generare più contatti, più clienti, a creare il tuo gruppo e a raggiungere i tuoi obiettivi con il network marketing. Ho racchiuso tutto in questo libro che si chiama Libero col network marketing, il metodo pratico con cui sono passato da bancario a costruire un business a 6 cifre. Proseguendo nel link qua sotto potrai acquistare questo libro a meno di 10 euro, in questo libro ti racconto tutto quello che ho fatto io, tutto quello che serve per passare da bancario a costruirmi un business a 6 cifre con il network e cliccando adesso il link in questo video potrai accedere a questo libro a meno di 10 euro. In questo libro ti racconto tutto quello che ti serve per avere risultati nella tua attività di network marketing e ti racconto esattamente come ho fatto io a passare da impiegato bancario a libero totalmente con il network marketing. Inserendo la tua email potrai avere accesso a tutta la mia formazione gratuita, prendere il libro a meno di 10 euro e anche prendere il mio corso sponsorizzazione magica che viene venduto a 97 euro ancora, te lo do gratis, quindi inserisci la tua email, ovviamente potrai cancellarti in qualsiasi momento. Ci vediamo dall'altra parte!